E ora terminiamo con l'ultima uscita di questa giornata della Vicenza Fashion Week abbiamo delle nuove emozioni sulle ali della moda internazionale con il brand Terry Fashion della stilista Gretel Cabrera con abili da giorno e da sera ecco voi la stilata di Terry Fashion Gretel Cabrera 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.